E' un accenino, voglio presentarvi un mio carissimo amico, potrebbe essere un grande musicista, Antonio Annona, suona le tastiere. Lui è un po' timido, però c'è un grande cuore. Per fare questa canzone ho bisogno per forza di lui, così non la potremmo fare, se non c'è cuore non si può fare. Non volevi la colore, non volevi la paura. Non volevi la voce, le creature, che sappia chiaro e chiaro, e tu sai che non si sono. Non si è sola, sola, sola. Non volevi la mano, non volevi la mano, non volevi la carta sporca. E' un'altra cosa, 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 non volevi la carta sporca. No, no, no No, 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 no